È già stato predisposto un piano vaccinale che comprende tutto quello che lei ha chiesto, i posti di stoscaggio che saranno 65, è stato tutto preparato. È chiaro che varieranno le modalità perché ci sono dei vaccini che hanno certe necessità, altri vaccini che non le hanno, quindi è chiaro che ci saranno delle variazioni, ma è stato tutto assolutamente previsto. Anche i luoghi dove si faranno le vaccinazioni? Anche i luoghi dove si faranno le vaccinazioni. Che non saranno gli ospedali? Che potranno essere anche gli ospedali. Sono circa 1.500 dosi che arriveranno il 27 mattina alla Niguarda, da qui verranno distribuite nelle 11 province, oltre a Milano, nelle 11 province lombarde, dove verranno simbolicamente inoculate ai primi cittadini lombardi che faranno parte del mondo della sanità, delle reti e tutto quanto legato a chi deve dedicarsi alla salute dei nostri cittadini. Questo è il primo giorno. Dopodiché, entro gli ultimi giorni dell'anno, i primi del prossimo anno, inizierà ad arrivare la fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione di tutti i nostri cittadini. Gradualmente, evidentemente, ma verrà portata avanti. Mi dicono il numero esatto dei vaccini, 1.620.